Buonasera e benvenuti alle nostre breaking news. Zuffa tra tifosi in autostrada del sole sul tratto aretino, chiuse le indagini, sono sette i tifosi della Roma che hanno ricevuto l'avviso di chiusura indagini per Rissa. I fatti, ricorderete, accaddero all'altezza dell'area di servizio di Badia e Alpino e risalgono all'8 gennaio scorso. Inflazione nel mese di aprile. I dati per quanto riguarda la provincia di Arezzo non sono particolarmente confortanti. Sono dati emersi da un'indagine dell'Unione Consumatori che di fatto ha rielaborato dati Istat. La nostra città si trova a nono posto in Italia. Ovviamente ci sono stati alcuni prodotti che sono aumentati più degli altri, ma la posizione in questa classifica non può essere definita soddisfacente. Si è riunito oggi pomeriggio il Consiglio Comunale di Arezzo. La sicurezza e il futuro di Via Filzi sono gli argomenti, costantemente al centro del dibattito politico. Rinviato il punto all'ordine del giorno sull'istituzione di un garante dei diritti dei detenuti. In chiusura puntuale, il Consiglio Comunale aperto dedicato alla riqualificazione della piazza di Saione, tema questo molto sentito soprattutto dai residenti. Queste erano le nostre breaking news.